buongiorno a tutti allora piccolo video stamattina per farvi vedere la mia colazione ed è un video un video per tutti voi ma soprattutto per betta per vendicarvi un po delle sue golosissime merende colazioni allora vi faccio vedere cosa cosa mangerò stamattina per colazione allora ieri ho fatto una torta con i fiori di sambuco eccoli qui e stamattina l'ho farcita con la marmellata di ciliegie e un'altra fetta con la cioccolata spalmabile e qui c'è un tè sono fuori in giardino e vi saluto a tutti approfitto del sole perché la pioggia in questi giorni non ci lascia in pace ciao a tutti ciao betta